L'86% dei prodotti commerciali in Italia viene mosso su gomma, i cui costi sono noti. Accruciare le distanze vuol dire quindi diminuire i prezzi, salvaguardare il patrimonio agroalimentare e tutelare l'ambiente. Per questo l'onorevole Giorgio Assenza ha presentato ieri a Lars un disegno di legge ad hoc a sostegno del comparto agricolo siciliano, storicamente uno dei punti di forza dell'economia isolana. Nel disegno di legge sono contenute una serie di norme tese a orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero. L'obiettivo è rendere obbligatoria per Mense, Chef e Grande Distribuzione l'indicazione dei prodotti stagionali del territorio siciliano, con la creazione di circuiti di ristoratori che si impegnino a servire menu a chilometro zero, ovvero pasti con ingredienti provenienti almeno nella misura del 30% dalla campagna circostante. Tra gli obiettivi della legge vi è anche la promozione del patrimonio agroalimentare attraverso l'orientamento di bandi delle pubbliche amministrazioni, affinché prevedano nella misura del 50% la somministrazione di prodotti locali nelle mense scolastiche di università, ospedali, caserme, consentendo ai consumatori di fare scelte consapevoli, sostenibili in termini sia economici che ambientali. L'articolato prevede infine spazi riservati agli agricoltori nei mercati rionali per incentivare la filiera corta.